Resta in piedi nonostante il contrasto. Si chiudono dunque anche i supplementari. Parità, si va ai rigori. Sta per calciare il primo rigore della serie. Sbaglia, palo! Ma che rischio! Ha rischiato troppo, gli è andata male. Tutta la tensione, freddissimo, la mette dentro. Rete! Non sbaglia! Niente da fare per il portiere. Rete! Buffon, vieni cedino! Sono vicini al traguardo, è un momento fondamentale questo. Manca pochissimo, deve segnare per forza. Parata, parata! Grande reattività e un pizzico di fortuna. Questo rigore è decisivo, non può sbagliare. E c'è il gol! Dipende tutto da lui. Non vorrei essere nei suoi panni, Pier. E spreca il calcio di rigore. E questo è l'esempio di come non si calcia un rigore. Rete! Non sbaglia! Perfetta la realizzazione, c'è il gol! Perfetto veramente, imparabile. Va a sistemare il pallone, ovviamente. Non sbaglia! E c'è il gol! Violentissimo! Un bolide, imparabile. Grande sicurezza. Ballone in rete. Si avvicina al dischetto. Grandissima responsabilità. Non ha lasciato scampo al portiere. Trentissimo ha trasformato. Trasformazione perfetta. È pronto dagli 11 metri. Tutta la tensione sul suo volto. Rigore calciato in maniera davvero impeccabile. La mette dentro. Si prepara a calciare l'ennesimo rigore di questa serie infinita. Sbaglia il rigore. Traversa piena. È facile alzare la palla quando il corte è sbilanciato all'indietro. Questo rigore può essere decisivo. Vediamo. Non sbaglia! È fatta! Regala la vittoria alla sua squadra. Grande calma, grande calma.